Buon bello a tutti regas, ben tornati sul canale e ben ritrovato David Sì siamo, anche se sto giro non parliamo più dei coio Non parliamo più dei coio ma è andata bene anzi vedo che... Vi ho anche scritto su Instagram tra l'altro Sì? Vi ho chiesto dai dove è il prossimo anno dovete tornare in Europa L'erranno in Europa? E lui ha detto eh contiamo di tornare però non si sono sbottonati bene Comunque vedo che non solo è stato il tuo album dell'anno ma molti altri regali Adesso vedremo, stiamo girando il 14 di dicembre penso che nei prossimi giorni usciranno tante classifiche Vediamo come si sono classificati coio Di sicuro l'album di cui andremo a parlare non sarà nessuna classifica Ma se andavamo nel 2003 probabilmente era in cima a tante Alla mia sicuramente Sì, dai lo spoiler l'avete già visto oggi andiamo ad aprire questa copia di Sing The Sorrow Che già con David ne abbiamo parlato, fa vedere la tua original Ecco qua Questa è un first press La first press contro l'edizione dei vent'anni Allora io e David abbiamo già fatto un video ricchissimo sugli afi Che tra l'altro è un long time, come si dice dai, quelli che vengono sempre molto visti all'interno del canale Quindi non rientreremo nella annosa di Atriba se gli afi di Sing The Sorrow sono ancora validi o se non valgono già più Guarda se volete lì un video di un'ora circa, parliamo di tutti i dischi degli afi, monografico, ve lo lasciamo il link qua in descrizione Andatevelo a vedere perché secondo me è ancora molto molto valido, girato ormai 4-5 anni fa Oggi, allora, qual era il problema all'epoca che non si riusciva a trovare una press oltre questa qua che ha David di Sing The Sorrow E questa, allora, te come avevi fatto a prenderla? Me l'hanno regalata perché sapevano benissimo che la desideravo con tutto me stesso Quindi era stato un regalo di compleanno credo Ok Era nella mia wishlist da tempo E il problema di quegli anni lì appunto, penso come è già stato ampiamente detto Che quando è uscito Sing The Sorrow non erano tornati di moda i vinili Il 2003 ancora era ben prima del trend Quindi chi è che si comprava i vinili? Io no, di sicuro, io avevo il CD di Sing The Sorrow E nemmeno mi è passata per l'anticamera nel cervello di prendermi il vinile Quindi chi aveva il vinile se lo teneva ben stretto Anche perché il vinile sì, allora, era una produzione della Geffen Ma il vinile fu prodotto, come potete vedere qua, dalla Adeline Records Che all'epoca mi pare fosse di Billy Armstrong dei Green Day Tra l'altro una co-produzione assieme a Nitro Che era di Dexter Holland E quindi si erano appoggiati a un'altra etichetta per fare l'edizione in vinile Dopodichè era praticamente sparito Questa è rimasta l'unica uscita, ma costava tantissimo Di che colore è questa? E questo è rosso se non sbaglio Andiamo ad aprire magari Comunque questo è sempre stato difficilissimo da trovare come album Perché appunto ti dovevi per forza assorbire quella dell'epoca a dei prezzi assurdi Quando me l'hanno regalato penso stesso sui 100 euro o poco più Ok, quindi fattibile diciamo Fattibile sì, una cifra alta però ancora abbordabile E adesso siamo un po' più in alto, con i 200-300 euro Sì, dopo ci sono state tantissime ristampe Allora, prima di tutto è attorno al 2021-2022 Ecco qui è la copia rossa Penso che non potesse essere di un colore di freddo È una copia rossa abbastanza sanda, no? Sì, Blood E dopo di che sono uscite tantissime copie bootleg Fatto sta che sono edizioni unofficial Però sempre a cura della The Moon Records Che si vede che aveva ancora i diritti per stampare Ma non erano uno ufficiali Qualcosa del genere Eh ma infatti ci piacerebbe sapere Se qualcuno ha una di queste copie non ufficiali Qual è il valore Perché parlavo prima con Kant Guardavo sul disco GS ma pare che non siano in vendita Che nessuno le sta vendendo al momento sul disco GS Quindi non saprei dire il valore Come raccontavo prima sono stato a Londra I primi di novembre E in uno di quei mercatini di vinili usati C'era una copia bootleg Tra l'altro è del colore abbastanza assurdo Verde Verde Un verde un po' particolare Però non ho chiesto quanto costava Perché poi avevo comprato già la stessa Questa che andremo ad aprire oggi E la Rap Trade pagando da 50 stelline Perché era una copia import E quindi costava un po' di più Però ha detto Visto che questo qui non lo voglio suonare Almeno ho una copia che posso suonare La copia backup da suonare Anche perché quella comincia a diventare un reperto storico La prima copia E quindi finalmente con il ventennale Arriva una vera e propria riedizione Di Sing The Sorrent Che adesso andremo ad unboxare David ce l'ha già Tu l'hai pagata 50 pound 50 storie Si perché era import Io invece l'ho trovata negli Stati Uniti E quindi 41,99 dollari E quindi sarà tipo 38, 37, 38 euro Lui c'era qualche tassa Quindi alla fine vai sui 40 dollari Però non era import Perché appunto presa negli Stati Uniti Tra l'altro quando hanno fatto il concerto Quest'anno è stato l'anno scorso E all'inizio di quest'anno All'inizio di quest'anno Al Wiltern a Los Angeles A Los Angeles C'erano già credo 2.000 copie che vendevano al concerto Ma non di questa color Ma non di questa Cioè alla fine i colori sono tutti più o meno simili Perché è rosso e smoke Mentre invece questa Non si sa quale sia la tiratura Non si sa quale sia la tiratura E però è il black red pinwell color Quindi più o meno stiamo sempre sul rosso e nero E dopo di questa ce n'è già un'altra di copia Che è una super deluxe per il ventennale E che oltre al doppio vinile Ci sono anche 4, 5 e 7 pollici E costa tipo Allora è fatto cofanetto E' molto figo Cioè tipo mi sembra una valigetta che si apre Ci sono anche altri gadget Copertino alternativa E ci sono i 7 pollici di alcune B-Sides Anche quindi diciamo che per il collezionista Forse interessa più l'avere i 7 pollici di B-Sides Che magari per la terza o quarta volta Sing The Sorrow Però costa 275 dollari Più spedizione Altra roba che mi fa girare gli ingranaggi Lo sai qual è? La copertina alternativa Cioè avere un'edizione che pago tanto E in più non ho la copertina ufficiale A me ne fa... Cioè non mi piacciono le copertine alternative Invece a me gasano Perché se già ce l'hai così in un determinato modo La copertina alternativa può essere... No io mi immagino di quello che magari dici Ok mi prendo... nel 2003 non sono riuscito a prenderla Adesso devo scegliere quale prendere Mi prendo le alternative e quindi non ho la copia in mille Ah beh... Questa è il solissimo Cioè... Va solo per avere la doppia copia Questo sì Comunque come dicevo prima Siamo passati appunto da... Da essere... Da avere un disco introvabile Adesso a poter scegliere più versioni Fortunatamente Questa è quella che credo che vada per la maggiore Anche perché è quella che era presente al concerto Adesso non la vedo da nessuna parte Però si trova tranquillamente Credo... Boh... Provate a googlarla La trovate Adesso vi metto qualche link in descrizione Sicuramente su disco GS la trovate Ma secondo me c'è anche qualche distributore italiano Che lo può avere E penso che un prezzo onesto può essere a 50 euro Andrebbe benissimo se fosse 50 euro 50 euro Se lo volete... Ve la potrete accollare Andiamo a vederli se li vale E' ancora chiusa Come al solito Made in Czech Republic E' edizione Quindi... Ritornata alla Geffen Quella del... Del 2023 Con UME Che non so cosa sia Boh... Non saprei Magari io se non c'erano No Ho visto che UME non c'era nella copia Quella smoke Che la primissima Che era solo Geffen Quindi... Non saprei Allora... Adesso sto attento Perché... Ci tengo al... Ehm... All'etichetta americana Tra l'altro ho preso in un negozio a Chicago E... Uscirà sicuramente dopo questo video Il mio video dove sono a fare shopping in giro per i negozi di Chicago E... Questa quindi è un'anteprima Ecco qua Copertina opaca Bellissima 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 Ehm... C'è il bordo anche nella... Nell'edizione originale vero? Si E... Ecco si Il bordo Però lucida Quella opaca Ok Bella però opaca Si forse opaca ancora più bella secondo me Tra l'altro... Facevo notare prima lui che è più tamugna la... Diciamo che non so come chiamare il dorso Il dorso Forse si vede però Decisamente Decisamente più tamugna Eh... Di... In questi vent'anni Il rilancio del vinile Hanno cominciato a fare copie Ben più corpose E... Quei fatti Repubblica cieca Diciamo che... Non scherzano Apriamo Ora Gatefold Vediamo la foto che... Quella fedele... Io avevo il cd fino adesso Però questa me la ricordo Alla grande Sì sì Che è quella E... Non andiamo a parlare tecnicamente dell'album Anche perché... Ne abbiamo già parlato Ne abbiamo parlato Ragazzi... Fino allo sfinimento Fino allo sfinimento Basti sapere che è prodotto da Jerry Finn e Butchwig E Jerry Finn il più grande produttore pop-punk di tutti i tempi Ora è purtroppo deceduto Butchwig era il produttore di Nevermind e Nirvana Giusto per rendervi l'idea Andiamo con quello che immagino sia il disco A Ecco qui Qui vediamo gli affi di quegli anni Stilosissimi In questa formazione E qui quindi ci sono i testi dei primi brani Che si arriva fino a The Great Disappointment Ed eccolo qua Sì, rosso e nero Un po' splatter Rosso e nero un po' splatter Ma bello dai Gira 45 Molto bello dai E' una bella copia ragazzi questa Dai finalmente Sing The Sorrow Ha una copia che lo merita Decisamente Decisamente Questa ci vuole come nella collezione Sì sì Cioè il disco ci vuole in assoluto Qual è il tuo pezzo preferito adesso come adesso? The Sing The Sorrow? Ehm Cioè è un album in cui faccio veramente una fatica estrema a indicarti C'è un singolo pezzo perché Cioè come Cioè come dire All killer no filler Come dicevamo sempre no? Cioè non Non c'è un pezzo brutto Guarda Vado con uno che forse Ehm 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 Se mi avessi fatto la stessa domanda Nel 2003 Ti avrei detto Girls Not Grey Ehm Perché probabilmente era Però adesso magari ti potrei dire Sentendo prima Death of Seasons Boh Ah non lo so Ragazzi qui è difficile trovare un pezzo Che non ti piaccia a 10.000 Secondo me Tutti bellissimi Voilà L'altra parte E il colore è sempre lo stesso Cambiano giusti centrini Ah è bellissima stuizione ragazzi Molto molto bella Gran figata Gran figata Dal vivo io non li vedo da tanti anni mi sa Da tantissimo E sto cercando Cioè vorrei che venissero in Europa Perché Cioè se vengono in Europa Che sia Germania, Inghilterra Ehm Cioè ci si organizza insomma Chiaro che in America È un po' più complicato Io l'ho visti diverse volte Ehm Bellissima la data a Rolling Stone di Milano Quella è Io credo di essermela persa Quella è stata epica L'ho visti diverse volte Magari festival europei Ehm Come potevano essere stati il blues rock eccetera E c'era quando suonarono a Bologna E fecero proprio nel tour di Sing The Sorrow Ehm Quel mega show con Sì 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 La Transilvania L'avevo beccata anche il Transilvania E mi ero fatto autografare Ehm The Art of Drowning da The Avoc Ehm Che tra l'altro The Avoc Regas Io mi ricordo che Ehm Anni fa lo beccai a San Francisco Un concerto dei Love Once dei Gaslight Anthem Ehm Era lì tra il pubblico Ero tipo nella zona Diciamo Vip Che ero invitato Ehm Ehm Non c'erano tanti invitati C'eravamo io lui E dopo lui era Stretteggio All'epoca Sì Io bevevo così Si siamo messi a chiacchierare Un botto dell'Italia Di cose E mi ricordo che era stato proprio Mega Regas Anzi era lui Da un certo punto che mi impassava E mi chiedeva le cose sull'Italia Ehm Tra l'altro c'era anche La foto di me lui Con lui con una camicia assurda Ehm Era assolutamente brutta Ehm Però Era stato piacevolissimo Come incontro Perché Se hai un concerto Se hai un Devievo Che ti trovi a fare serata con lui Ehm Mega Regas Quanto anni fa? Era il 2009 Quindi Il 2009 comincia Ehm È un po' di tempo Sì Ma perché non tornare in Europa? Ah Perché Non dico in Italia Perché effettivamente adesso Quanto pubblico potrà mai avere Un concerto degli Afi? Allora secondo te Quanti ce l'abbiamo questa copia qua? In Italia adesso I repressi I repressi Sì No secondo me Oddio adesso faccio fatica a quantificare Però non ne girano tante secondo me Non ne girano tantissime Però sicuramente Qualcuno ce l'ha dato Sì sì Ehm Adesso stai Adesso magari cominciarono ad arrivare Anche perché Non essendo limitata Ah non c'è un numero di quante ce ne sono Ehm Quindi parecchie Quindi parecchie Fa conto delle Del Ehm Di quella dopo di questa Che è il Ehm Se ce l'avessero nei negozi Sì Ah se sai che c'era un negozio Perché tanto Ehm Se può capitare o meno la dogana Ehm Non esiste Ehm Un pacco del regno unito che non mi sia arrivata alla dogana negli ultimi anni Ehm Neanche male Nell'ultimo sì Due anni mi sembra l'ho sempre pagata Ehm Stati Uniti può capitare no Un regno unito è Come le tasse Arriva Quindi Non so Io aspetto più che altro le repressi come dicevo di Crash Love Che è l'unico vinile che mi manca degli altri E speriamo Sai Io sono molto favorevole ai tour degli album Il ventennale è stato quest'anno Se volessero fare un tour Ehm Portare Sing The Song Come fecero a Los Angeles Portarlo a fare il tour Penso che Ehm Prenderebbero molti più Molto più pubblico rispetto a un tour normale degli affiche Ma secondo te è un gruppo che Non Non viene qua Perché il rapporto a quanto costerebbe Non farebbe Ovvio Sufficientemente gente Certo perché è un gruppo che Neanche in Inghilterra? Allora In Italia ti posso dire ok Allora La data al Wiltern Se la sono prodotte loro Perché come fanno gli a Tars Come fanno altri gruppi Vanno gli al Wiltern Dicono Ti affittiamo la baracca Un locale Ci ho fatto un vlog In AM Ehm Andatelo a beccare sul canale Un locale Bellissimo Loro lo noleggiano E vendono loro i biglietti direttamente Travite il circuito che può essere Live Nation Quindi la band si autoproduce il concerto E lì quindi Va a rischio di impresa Però se va bene Va molto bene Ha fatto sold out in mi pare Qualche minuto Eccetera Eeeh I dischi nuovi degli AFI Te li stai seguendo? Io no Sono fati male Non saprei dirti a livello di vendite però Cioè nella mia cerchia Sono l'unico che ascolto Che continuo a comprare i vinili Le vinili L'ultimo disco ho preso due colorazioni diverse Quindi ci sto ancora Li seguo ancora Insomma Quindi mi piacerebbe vederlo Chiaro che preferisco i pezzi vecchi Se me lo chiedi però E' una band che è un po' in impasse Perché fa questo genere Nell'ultimo C'era quel pezzo che non mi era neanche disposto a Los Angeles qualcosa? Eeeh Si Adesso non mi viene in mente Eeeh Vabbè E Si E c'era quel pezzo che dopo ti avevo anche scritto Mi ricordo che non mi era dispiaciuto Però alla fine non ce l'ho fatta Ad andare a prendermi l'album E ad ascoltarmelo Perché Ad andare su un disco degli AFI Escape from Los Angeles Escape from Los Angeles Quello non è un brutto pezzo Provatelo da mettere su però Allora secondo me Penso di averlo già detto nell'altro video Secondo me Sono un gruppo che Ovviamente non riesce più a fare determinati dischi Ma è rimasto dignitoso Nel senso Può non piacerti il disco Però non è che Lì ci hanno completamente sbragato E sono inascontabili Non è che sono Che so Gli Ospring di adesso O I Fallout Boy di adesso Cioè non ti fanno così cagare Chiaro che Sono dischi minori La paura secondo me Uno come me Che può avere Ad andare a vedere un concerto E Ok vado lì e mi becco gli ultimi tre album Mi fanno Mentre se metto le cose in chiaro Dicono facciamo il tour di Sing The Sorrow Vado lì Mi so che mi becco coi pezzi E sono contento Fanno il tour di Dove siano i smarter Dove fanno il best of Magari facessero quello di In realtà credo l'abbiamo pubblicizzato come L'unica volta che faremo Sing The Sorrow Poi basta Poi sappiamo benissimo Che se la gente comincia a chiedere Lo fanno Che mai dire mai Però penso che sia stato pubblicizzato come un Questo è un evento Che faremo ora una volta Poi basta Quindi se volete Vedersi suonare Sing The Sorrow Dall'inizio alla fine Vi tocca venire Però La paura fondamentalmente Del pubblico adesso è quello Che vai lì e ti becchi Cinque pezzi vecchi Venti pezzi nuovi E ti rompi il cazzo Perché non le conosci Beh guarda penso che Che riescano ad equilibrare Ancora Bastanta Cioè Non a esagerare Con i pezzi nuovi Ma a fare anche roba vecchia Poi magari cambiando la scaletta Aspetta che guardiamo una scaletta Ok abbiamo un po' sbaccato Con questo video Sulla press Ma Ci siamo andati a vedere Un'ultima scaletta Abbiamo preso come concerto Il Riot Fest Quindi il settembre Quindi il settembre È data in festival E hanno fatto Tre pezzi Da December Underground Con Love Like Winter Miss Murder The Killing Lights The Sing The Sorrow 3 Dance It Through Sunday Girls Not Grey Silver and Cold Due da Bodies Che è l'ultimo disco Che è l'ultimo disco Beggy for Trouble E Escape from Los Angeles Quindi sono beccato Era un singolo? Eh sì Era un singolo Penso siano le cantoniche Più da live Forse di quel disco Due da Burials Una da Affi The Blood Album Una da Crash Love And Transmission Ci sta Una da Art of Droning The Days of the Phoenix E una da The Missing Man Get Dark Quindi Quindi dai Hanno spaziato bene o male Chiaramente togliendo i primissimi dischi Sì sì Togliendo i primissimi dischi Però Spaziano abbastanza Quindi secondo me sarebbe anche una bella data da vedere E fa vedere la data qui del 15 luglio che abbiamo fatto in un anfiteatro Se abbiamo preso qualcosa da qualche altro album No E più o meno sempre quella Ecco un bel tour di solo The Art of Drowning Ma lo vedrei molto bene Ehhh una la metterò sempre Uh hanno messo in questo concerto che era un club show Cioè club show è un anfiteatro Una da il mio disco preferito Black Sails in the Sunset Strength Through Wanding Bello Ecco dai Lì secondo me ci sta sempre un pezzo Ma anche dai di open your eyes and shut your mouth Sì sarebbe bello Però non so Sì dai è abbastanza improbabile Tra l'altro adesso ho visto che negli Stati Uniti sono in supporto ai 30 Second to Mars Dubbo di supporto quindi c'è Pensa che palle vedersi gli affi Madonna Cioè sei obbligato a vederti gli affi A un concerto di 30 Second to Mars Adi la cosa bella è che fai presto Ehhh Vai via dopo gli affi Sì vai via dopo gli affi Il problema è che però ti paghi Ah ti paghi il biglietto Il biglietto Io tra l'altro li ho visti diverse volte il 30 Second to Mars Io li ho visti a Londra Give it a name Io sì avevo dei festival e non me li ero cagati Mentre una volta a New York Anche tipo nel 2005 ancora non erano famosi Li vedi tipo in un club con Andy Che erano con gli Emanuele tipo Bellissimo gli Emanuele Gli Emanuele che se ascoltavate scrivo negli anni zero Ve li ricordate E c'erano in 30 Second to Mars Che tipo Andy non li conosceva Però io gli dico ah c'è il Regas che c'è in Fight Club Nella sottile linea rossa Perché tipo io ero già Red Lito Era proprio un club da 200 persone Ma all'epoca non mi erano neanche dispiaciuti Ma sì anche io quando li ho visti Cioè non mi hanno fatto cagare Tra l'altro in festival così grande Comunque con dei suoni incredibili Mi sembra di ricordare che comunque dai Avevano fatto anche una discreta figura Però sono passati anche diversi anni E adesso i Parti Second to Mars Fanno pop fine Sì sì adesso c'è proprio E so che suonano non rimango neanche a vedere Cioè non mi rompo le palle e basta Però gli altri ovviamente sono solo nelle date del Nord America Perché i Parti Second to Mars vengono anche in Europa Ok quindi dici oh la peggio Mi farò sto sazzi No è peggio perché dopo vengono e ti fanno 40 minuti E no dai No è peggio infatti È peggio secondo me se vengono di spalla un gruppo gigante Ma è proprio dove non andarli a vedere Perché è proprio contentivo Credo se non ricordo male anni fa Che tornarono in Inghilterra come spalla ai Deftons Non vorrei sbagliare Quindi non so se qualcuno può controllare Che lui coi Deftons è anche un gruppo con uno dei Deftons nei Crosses No non è Non credo ci sia qualcuno degli altri nei Crosses Sono Cioè hanno fatto la Ha fatto la band con Con quelli dei Note Out Mi pare che si chiamano Ok stiamo Scusate stiamo dicendo inesattezze Ok Ma non c'è un progetto dove ci arriva con qualcuno degli altri? Si ci sono i Black Audio E poi hanno fatto anche gli Extremist Che era una roba un po' più pesa Black Audio però sostanzialmente Elettronica E quindi no dai E se vai in un concerto grande Ti rompi le palle e basta perché Ci suonano 40 minuti Si ti fanno due pezzi da Sing The Sorrow Però è uno showcase E bisogna andare a vedere un concerto agli A Fino ad un concerto spalla Anche perché poi hanno il loro set di luci Visual e secondo me è fondamentale In un concerto loro Quindi speriamo che vengano in Europa In un tour decente Dai eh Grazie mille David Bomba Alla prossima Bella Regas Ciao